Oggi siamo nella zona del Trento d'Occo, una delle aree più importanti per quanto riguarda la produzione degli spumanti italiani. Aria rinomata soprattutto per grandi produttori come possono essere i Ferrari, ma anche per produttori un pochino più piccini, quali Maso Martis. Maso Martis è un'azienda biologica che nasce intorno agli anni 90 e si pone sul mercato proprio con i loro spumanti, dal classico brutto fino alle riserve, sia brutto ma anche dosaggio zero. Il prodotto principale che fa da cavallo di battaglia, se vogliamo, all'azienda è la Madame Martis, uno spumante il cui assemblaggio prevede anche una percentuale di Pinot Monier e che ha una sosta sui lieviti che può arrivare fino ai 7 anni. Oggi proponiamo la riserva dosaggio zero, un prodotto secco che nasce sui suoli calcare del comune di Martignano. È prodotto dall'assemblaggio di Pinot Nero e Chardonnay, appunto zero zucchero quasi e 4 anni di affinamento sui lieviti. Un grande prodotto che può essere abbinato a del pesce oppure con degli aperitivi importanti. Si sposa magnificamente con i piatti a base di crostaci. Grazie per la visione!